Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Verrà interrogato nelle prossime ore al carcere di Pescara Federico Pecorale, ritenuto responsabile del tentato omicidio nei confronti di Jeffrey Rosado Guzman, il ragazzo di 23 anni raggiunto da 5 colpi di pistola domenica 10 aprile, nel giorno della Domenica delle Palme. Il giovane stava lavorando come cuoco a casa Rusti di Piazza Salotto a Pescara ed è stato aggredito da un cliente apparentemente insoddisfatto degli arrosticini. Pecorale, fuggito a bordo di un taxi dopo l'accaduto, è stato intercettato dalla polizia in un'area di servizio di Pesaro. Ora è stato trasferito dal carcere di Ancona a quello di Pescara e verrà interrogato. Il suo legale, Florenzo Coletti, nei giorni scorsi ha inviato una richiesta al PM per chiedere di ascoltare il suo assistito, che inizialmente l'udienza di convalida si era avvalso della facoltà di non rispondere. L'avvocato sta lavorando con uno psichiatra per valutare la compatibilità dello stato di salute del suo assistito con il carcere, confidando di ottenere il trasferimento in una casa di cura. Pecorale deve rispondere anche di porto abusivo di arma da fuoco. Intanto, ieri, Jeffrey è stato trasferito dall'ospedale di Pescara al San Raffaele di Sulmona per cominciare il percorso riabilitativo.